purtroppo anche quest'oggi sarei voluto uscire con un video completamente diverso ma ho letto una notizia che non potevo assolutamente ignorare e di cui dovevo metterti a parte che cosa è successo e ascolti il mio tg tecnologico chiamiamolo così in particolar modo quello che è uscito lunedì scorso avrei sentito che microsoft seppure in ritardo si è resa conto di una grave vulnerabilità che affliggeva il suo secure boot cosa poteva succedere poteva succedere che dei malintenzionati avrebbero potuto inserire del codice malevolo che sarebbe stato avviato con windows stesso una volta che un programma viene eseguito con windows è molto più difficile individuarlo e naturalmente di conseguenza rimuoverlo microsoft si è mossa appena ha individuato il problema ed ha pubblicato una patch ma la notizia di oggi è proprio relativa a questa pace che a quanto pare è inefficace innanzitutto per i dispositivi le macchine che non sono dotate di secure boot ma in secondo luogo anche quelle dotate di secure boot per attivarla devono seguire una procedura complicatissima che in caso di errori può fare più danni del virus stesso portando ad un mancato avvio del sistema allora che cosa succede siccome ci sarà un tempo da parte di microsoft molto lungo per porre rimedio al problema che è stimato in circa un anno nel frattempo dovremo rimboccarci le maniche e cercare una soluzione alternativa è quello che faremo oggi ti senti pronto inizia la prima cosa che è importantissimo capire è che cosa sia un boot kit ebbene sì perché non abbiamo a che fare con un classico malware di windows si tratta di un qualcosa di più raffinato sebbene non sia un prodotto nuovo nell'ambito dell'informatica perché i boot kit veri e propri sono nati già nel 2012 quindi più di dieci anni fa con prodotti tipo sideox oppure sino wall come puoi vedere qui nel nell'articolo che ti riporto che cosa è successo però in seguito che con l'introduzione del secure boot di microsoft allo stesso modo si è evoluta sia la sicurezza informatica ma si sono evoluti anche gli strumenti di attacco e questo boot kit con cui abbiamo a che fare oggi che si chiama black lotus è molto ma molto più invasivo e pericoloso ma andiamo a vedere in maniera molto semplice come funziona un virus boot kit perché è opportuno conoscerne il meccanismo di funzionamento per capire quello che dobbiamo fare per proteggerci la tecnica di attacco normale è questa un attaccante esegue sulla nostra macchina un installer può farlo tramite un pendrive infetto ad esempio oppure tramite un allegato di posta quindi sulla nostra macchina viene depositato il boot kit e immediatamente assistiamo ad un riavvio anomalo della macchina questo già dovrebbe metterci in allarme però capita anche normalmente che le macchine si riavvino improvvisamente a seguito di un errore quando il sistema si avvia parte il firmware wifi che è l'avvio classico di windows a cui assistiamo e fin qui non ci accorgeremmo di niente ma nel frattempo il file boot mgfw.efi viene attaccato corrompendo il cwe della nostra macchina che cos'è il cwe il cwe è l'unico nostro baluardo di difesa e vuol dire common vulnerability exposure cioè è l'unico sistema che si accorge prima ancora che venga avviato windows oppure qualunque altro antivirus se c'è qualcosa che non va o meno naturalmente nel momento in cui il cwe è stato infettato tramite questo processo la nostra macchina resta in difesa il passo successivo che fa il boot kit è quello di andarsi a scrivere nella nv ram cioè nella ram non volatile del nostro sistema e questo significa che ogni volta che noi riaccenderemo il sistema prima ancora che si avvii windows o qualunque antivirus saremo stati già infettati nella notizia che avevamo letto lunedì scorso nel nostro tg c'era scritto appunto che la vulnerabilità zero dei era stata trovata individuata da microsoft che aveva emesso una patch provvisoria per porvi rimedio ma che i tempi realistici per il fix cioè per la correzione definitiva sarebbero stati piuttosto lunghi ebbene una notizia leggermente più recente quantifica questi tempi come lunghezza in circa un anno e le brutte notizie purtroppo non finiscono qui se infatti andiamo a leggere con un attimo di attenzione l'articolo pubblicato da punto informatico vediamo che si la microsoft ha pubblicato una patch per risolvere il problema della vulnerabilità del secure boot al malware black lotus ma vediamo anche che la protezione si articola in tre fasi che il fix è opzionale e va manualmente attivato dall'utente e come se non bastasse è disponibile solo per i dispositivi che hanno il secure boot attivo sempre quel requisito famoso che era necessario insieme ad altri per l'installazione di windows 11 se andiamo infine a vedere le istruzioni distribuite dalla microsoft insieme alla patch per la correzione dei sistemi ci accorgiamo innanzitutto che sono spiegate molto male e in maniera non esaustiva in secondo luogo che sono molto complesse da mettere in atto soprattutto per i non addetti ai lavori e in terzo luogo che nascondono delle insidie per i computer perché nel caso in cui ci fosse qualche errore ricordiamoci che stiamo sempre trafficando con il boot del computer e rischieremo che la macchina non si avvii più quindi a questo punto come ho detto nell'apertura di questo video l'unica cosa da fare è rimboccarci le maniche e ricorrere a soluzioni alternative ora se microsoft non è stata in grado di risolvere ancora il problema e se ci vorrà un anno per arrivare a questa risoluzione non ho la pretesa di riuscirci io in un video di dieci minuti ma voglio comunque suggerirti un qualche cosa di alternativo che ti consente di mettere al sicuro il tuo computer e il qualcosa di alternativo che voglio proporti consiste in questo puoi andare sul sito del nostro canale gentiluomo digitale punto it nella sezione downloads dove troverai due file che ho appena messo il primo si chiama boot kit remover di avg ci basterà fare clic su file download per scaricarlo e il secondo che alternativo al primo ma possono anche essere utilizzati insieme volendo per maggior sicurezza e lo strumento di rimozione boot kit di kaspersky andiamo a scaricare anche questo per vedere come possiamo utilizzarli ti ricordo che oltre a scaricarli sul sito del nostro canale potrai andare anche sul sito ufficiale di avg a cercare lo strumento di rimozione boot kit e scaricarlo di qui e altrettanto potrai fare sul sito di kaspersky dove troverai a disposizione lo strumento che si chiama tdss killer che potrai ugualmente scaricare cliccando sul pulsante download una volta scaricati questi due file quello che dovrai fare sarà andare ad aprire la cartella in cui sono stati messi potrai naturalmente chiudere il browser perché non ti servirà più e prenderli entrambi e trascinarli sul desktop una volta fatto chiudiamo la cartella in cui sono stati scaricati clicchiamo su ognuno dei due file con il pulsante destro e scegliamo la voce estrai tutto clicchiamo su estrai e ci troveremo il primo file in questo caso quello di kaspersky il tdss killer estratto sul nostro computer possiamo procedere con la stessa operazione anche per quanto riguarda la vg remover quindi clicchiamo con il pulsante destro scegliamo la voce estrai tutto clicchiamo ancora una volta su estrai e anche in questo caso troveremo in un'altra cartella anche la vg remover estratto facciamo doppio clic per lanciare avg remover ricordando che la funzione di questo file è semplicemente di andare ad indagare la presenza di boot kit sul nostro computer quindi la sua esecuzione sarà assolutamente istantanea facciamo doppio clic accettiamo che vengano apportate modifiche al sistema e riceviamo già una risposta dal nostro remover che ci dice che sostanzialmente non ha trovato niente ci viene anche creato un file di log che ci ricorda che abbiamo effettuato questa scansione che non ha trovato nessuna traccia di boot kit nella nostra macchina andiamo invece a vedere come utilizzare il tdss killer di kaspersky facciamo doppio clic sulla cartella e ancora una volta doppio clic su tdss killer anche in questo caso accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo e accettiamo la licenza d'uso dell'utente finale dovremo anche accettare il kaspersky security network statement per poter proseguire e vedremo che verrà avviata una brevissima inizializzazione del programma a questo punto potremo cliccare sul pulsante start scan che durerà semplicemente pochi minuti ecco fatto anche kaspersky ha terminato la sua analisi che è durata un po di più rispetto all'altro software quello di avg semplicemente perché lo strumento di kaspersky va a ricercare anche i root kit che sono una cosa un po diversa un altro tipo di minaccia oltre che ai boot kit che sono quelli di cui abbiamo parlato nel video di oggi naturalmente entrambi questi strumenti se dovessero trovare dei malware li rimuoveranno in automatico o in caso di difficoltà ci mostreranno un messaggio che ci indicherà come agire naturalmente come potrai intuire facilmente e come ho anticipato nell'introduzione del video questa non può essere considerata come una soluzione definitiva al problema semplicemente perché queste scansioni andranno ripetute manualmente ogni volta che avremo qualche dubbio ora stabilire una cadenza esatta per queste scansioni non è possibile farlo perché dipende anche dall'utilizzo della macchina e da quanto questa sia esposta ai pericoli comunque in linea di massima ti dico che una volta alla settimana potrebbe essere già una buona cadenza rimetto comunque al tuo buon senso di trovare il giusto mezzo per quanto ti concerne ma a questo punto non posso soprattutto perché ci tengo tantissimo non dare il benvenuto agli ultimi due abbonati del canale che sono leo cari deo e michael michael grazie ragazzi per il vostro supporto e benvenuti a bordo bene a questo punto credo di averti tutto quello che c'era da dire e nella speranza che tu abbia messo subito in sicurezza il tuo computer con questi strumenti seppur provvisori a me non resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima con questi strumenti con questo strumenti con il nostro strumenti c'è un'unite